A chi ci riferiamo quando parliamo di grave marginazione adulta? A tutte quelle persone che si ritrovano in una condizione di povertà estrema e marginalità sociale. Noi di ASP Città di Bologna insieme alle cooperative del Consorzio Arcolaio cerchiamo di dare una risposta alle loro necessità. I servizi a disposizione sono oltre 20 e si riferiscono a tre macro aree. Lavoro di prossimità e bassa soglia, accoglienza e lavoro di comunità. I servizi di prossimità agiscono attraverso sportelli ad accesso diretto e monitoraggi sulle strade per intercettare i bisogni in maniera capillare. L'accoglienza nelle strutture è una risposta immediata alle esigenze di chi vive per strada, ma mira anche a costruire un progetto personalizzato di reinserimento sociale sul lungo termine. Crediamo che l'integrazione dei servizi con il territorio sia fondamentale. Un dialogo con la cittadinanza che viene guidato, in particolare, dai laboratori di comunità. Il nostro principio base è la casa come diritto fondamentale della persona, da cui partire nel percorso di supporto. Questo concetto è al centro del progetto Housing First, che prevede l'inserimento stabile di persone senza dimora in abitazioni private. I servizi per contrastare l'emarginazione adulta intervengono sulla condizione specifica di ogni persona per fornirle gli strumenti utili a fronteggiare il disagio, per aiutarla a rinsaldare i legami sociali e a riprendere il controllo della propria vita. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!